l'ombrellaio è una cosa logica è una cosa che devi sfruttare ciao, che va? meno male che ci vada l'arrodino andiamo a fare quando fai prega mangi? metti il mani in guppata se non sto facendo un bianco come amare i dieti? non lo facciamo non lo facciamo non lo facciamo potremmo si ajudo a cambiata non lo facciamo non lo facciamo un bianco una cosa che va a fare prima prima cosa vuoi il vettore bravo si vedi si vedi 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 . 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 questo vuole un giusto, che un giusto, è tale che non ce l'hai capito venga quando parliamo veloce ci senti, ci capisci io vado intuito quando parmi se lo vai per la regola rompa rompa